Facciamo un esperimento, facciamo finta che sia estate e magari vi trovate di notte su un prato o su una spiaggia con i vostri amici. Alzate gli occhi al cielo e meraviglia, vedete tantissime stelle e magari anche qualche stella cadente. Esprimiamo un desiderio, vogliamo che i nostri occhi vadano oltre la finestra del visibile e possano vedere la radiazione milioni di volte più energetica e, al posto di essere quella che riusciamo a vedere qui, anche milioni di volte più corta nella sua lunghezza d'onda. Stiamo parlando dei raggi gamma. Il cielo ci apparirebbe diverso certamente, ma direi in maniera altrettanto affascinante. Anzitutto la prima cosa che vedremmo sarebbe una lunga striscia lungo tutto il cielo, molto, molto chiaramente. Questa striscia è la nostra galassia, è la Via Lattea, che normalmente con gli occhi vediamo molto più attenuata perché la radiazione visibile invece è assorbita da tante nubi che si frappongono tra il nostro pianeta e il centro galattico. Dopodiché, non lontano da questa striscia, vedremmo tanti puntini, la cui intensità varia con una regolarità impressionante, come se fossero tanti fari distanti. Sono le pulsar, sono cadaveri stellari che ruotano molto velocemente e che emettono radiazione in un cono stretto, che ci investe con una regolarità impressionante. Sono infatti dei veri e propri orologi cosmici. Poi ci discostiamo un po' da questa striscia e vediamo altri punti molto intensi. Sono distanti, sono altre galassie, galassie attive, perché al loro centro c'è un buco nero supermassivo che sta emettendo dei jet di particelle velocissime e per questo motivo emette anche questa radiazione molto energetica. Anche la nostra galassia ha un buco nero supermassivo al suo centro, però non è più attiva fortunatamente, o sfortunatamente, però forse non ci saremmo noi, è un po' complicato. In ogni caso ci sono i resti di questa struttura. Se guardate verso la costellazione del Sagittario con questi occhi che vedono i raggi gamma, vedreste delle grandi arcate che sono, si dice appunto, dei residui di questa attività. Ora, vedere questa luce, queste grandi energie, non è semplice, perché a questa elevata energia la luce si comporta più come un corpuscolo. Piuttosto che usare delle lenti, ho bisogno di lastre di materiale sulle quali letteralmente far sbattere questi corpuscoli. Materiale sensibile che sia in grado appunto di darci un'idea di vederlo. Non solo, siccome poi la nostra atmosfera fortunatamente ci protegge, l'idea è anche di mandare questo materiale in orbita. Ecco perché, diciamo, uno dei modi che abbiamo per avere questi occhi di cui ho parlato è mettere queste lastre di materiale sensibile su un satellite e spedirlo nello spazio. Non è semplice, ma è forse l'unico modo che abbiamo, o comunque uno dei modi migliori che abbiamo per ammirare questa zoologia fantastica che c'è nell'universo.